Una puntata di CAIA, l'informazione sveglia, davvero interessante e ricca di spunti, quella andata in onda stamane grazie agli ospiti in collegamento e in studio. Ad aprire la terza puntata di CAIA è stata Stefania Porraro, presidente della Proloco di Mercogliano, con la quale abbiamo focalizzato l'attenzione su Memo Salute, il progetto ideato per favorire l'accesso ai servizi di assistenza medica specialistica, con particolare attenzione alle fasce più deboli. Con la psicologa Antonella Fiorentino abbiamo invece parlato delle nuove frontiere della violenza, partendo proprio dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si è celebrata ieri, fino al cyberbullismo. Per la salute e benessere spazio ai consigli del nutrizionista Stefano Scafuri, per stare in forma ma soprattutto per avere un corretto stile di vita che fa bene alla salute. CAIA dunque ha acceso i riflettori sull'enogastronomia e sulle eccellenze della regione Campania. Con Mario Sansa, delegato provinciale caserta dell'Onaf, abbiamo scoperto il mondo degli assaggiatori di formaggi, mentre con Mariano Assini abbiamo conosciuto i vini Castelle, in modo particolare Camaiola, Barbera del Sagno ed ancora. Con il presidente Costantino Caturano abbiamo conosciuto l'ente parco regionale Taburno Camposauro, con le oltre 50 specie di orchidee che popolano i luoghi del parco e il progetto per ottenere il riconoscimento UNESCO Global Geopark. In chiusura siamo volati a Monteverde per conoscere uno dei borghi più belli d'Italia, aspettando la visita del principe Alberto di Monaco. CAIA vi dà appuntamento a venerdì prossimo alla scoperta delle eccellenze della nostra regione.